In dato odierna i carabinieri del Comando Antifalsificazione Monetaria con il supporto dei comandi provinciali di Roma, Napoli e Rieti dell'Ottavo Regimento Lazio, a conclusione di un'articolata attività investigativa coordinata dalla Procura Repubblica di Roma, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 12 soggetti di nazionalità pakistana, gravemente indiziati di associazione per delinquere trasnazionale finalizzata alla falsificazione e distribuzione di banconote a 100 euro false. L'operazione è stata eseguita nell'ambito di una Joint Action Day coordinata da Europol in collaborazione con la Brigata d'Investigazione del Banco di Spagna dei Mossos di Squadra di Barcellona e la Polizia Greca per procedere l'esecuzione di mandati di arresto europei. Le indagini avviate nel novembre 22 a seguito di reiterati episodi di smercio di banconote a 100 euro nella capitale hanno consentito l'individuazione di un gruppo di soggetti pakistani autori di decine di acquisti per beni di modesto valore pagati con banconote false a 100 euro che erano in grado di superare i più avanzati dispositivi di controllo, ricevendo cospicue somme di denaro genuino in cambio. Le innovative caratterizzazioni tecniche hanno indotto la Banca Centrale Europea a dichiarare la classe di contraffazione la più insediosa e insistente nella zona euro. L'investigazione ha consentito di delineare la complessa organizzazione criminale strutturata in tre cellule operative, la prima per la produzione, la seconda per la distribuzione e la terza attiva in Barcellona. Nel corso delle indagini sono state ricostruite oltre 50 attività di smercio, arrestati 4 corrieri e oltre 50.000 euro di banconote false se sequestrate.